Giornate di grande emozione Sì Gigi Riva per lei che cosa rappresentava? Allora, il mio ramarico, lato sportivo, purtroppo quando hanno vinto lo scudetto ero sotto le armi quello non me lo sono goduto però io sono tantissimi anni abbonato, ho una vita che lo seguo, il Cagliari e tutto arriva, e anche da parte nostra è giusto, doveroso venire ha fatto più lui per noi sardi di tutti gli altri Gigi Riva era veramente uno di noi, un uomo che ha permesso di far conoscere la Sardegna noi non siamo più stati quegli isolani, isolati e quella terra di confino con Gigi Riva Vengo da Nuoro, ho avuto la fortuna di vivere l'anno dello scudetto qui a Cagliari quindi era un mio dovere finire a ringraziare Gigi per l'infanzia che ho trascorso qui la gioventù che ho trascorso qui, che è stata probabilmente la migliore della mia vita sto arrivando adesso in ritardo ma sono contento di essere qui una persona meravigliosa, cosa posso dire, sono molto emozionata chiedo che Carlo Felice lo tolgano e mettono a riva, senza nessuna polemica però è giusto, per una persona che ha dato tutto e non era sardo lui si è identificato in noi e ci ha protetto anche perché se lei pensa che si aderava sempre quando ci davano dei pastori e dunque sì, è dei banditti, dunque non ci sono parole, voglio dire, uno di noi Gigi Riva per lei che cosa ha rappresentato? Un grande e uno di noi Oggi non è voluta mancare? No, assolutamente perché comunque lo dobbiamo Per noi è un eroe, per tutti i sardi, ha fatto molto per noi e dunque è il minimo che potessi fare insomma, ecco questo, è proprio un sentimento che sento e vado a toccare la bara per l'ultimo saluto però per noi è immortale perché lo ricorderemo per sempre Gigi Riva era nei racconti dei nostri nonni, dei nostri genitori era l'uomo che incontravi per strada sono venuta a salutarlo perché tante volte negli anni passati lo incontravo in Via Paoli ma non ho mai avuto il coraggio di fermarmi ci scambiavamo uno sguardo perché lui salutava sempre tutti faceva un cenno di rispetto Nuoro, come tutta la Sardegna, allora ha vissuto un'emozione immensa non tanto anche per lo scudetto ma per ciò che è rappresentato per noi sardi da qualsiasi punto di vista, c'è stato una specie di riscatto non solo morale ma io ritengo anche economico perché la crescita che c'è stata in Sardegna in quei tempi è incredibile anche dal punto di vista economico può darsi che stia dicendo una fesseria però ricordo che tutto cresceva in Sardegna è stata in Sardegna in Sardegna in Sardegna in Sardegna in Sardegna è stata in Sardegna in Sardegna in Sardegna in